Da questa parte, di spalle, allora invece vieni di qua, quando c'è Max, capito? E' lui, voi venite qua da lui, sta qui, sta qui, no perché già si è allontanata, no? Invece Max, autografo, mentre sta facendo la fotografia, mentre sta facendo la fotografia, a lei, capito? Qui voi, subito! C'è il sommiglio italiano? Va bene, va bene, para jumza.